La quarta ondata Covid sta attaccando duramente. Solo nella giornata di ieri si sono registrati a Teramo 194 nuovi positivi. Almazzini riapre la rianimazione Covid con sepa o stiletto e si torna in guerra. La preoccupazione però è grande, soprattutto per la carenza di personale. Attualmente sono 81 i dipendenti dell'asla di Teramo ammalati di Covid. Circa la metà sono infermieri, 12 medici e poi ci sono 45 dipendenti non vaccinati, in parte in malattia e in parte sospesi. Da qui la necessità di procedere agli accorpamenti per recuperare personale. Per il momento non è stata bloccata l'attività chirurgica, assicura il direttore generale dell'asla Teramana Maurizio Di Giosia, in modo da garantire comunque il trattamento di altre patologie extra Covid. L'unità di crisi che si è riunita con urgenza ha anche aumentato da 30 a 35 posti letto nella RSA di Bivio Bellocchio, dove confluiscono i pazienti in via di guarigione. Ad oggi i ricoveri di pazienti positivi nelle strutture asla di Teramo sono 104, gli intubati sono 4, tutti 50 anni in Novax. Inoltre all'ospedale di Atri la riabilitazione sarà riconvertita in reparto Covid con 19 posti letto e nelle prossime ore anche la medicina di Atri diventerà reparto Covid. Contemporaneamente sono state accorpate le chirurgie e ortopedie degli ospedali di Atri Giulianova e Santomero, così come l'Otorino e la chirurgia toracica del Mazzini. Ci troviamo di fronte a una situazione molto impegnativa, ma sostanzialmente diversa rispetto alle ondate precedenti, ha spiegato Di Giosia. Tutto questo è da ricondursi certamente al fatto che la maggioranza della popolazione è vaccinata e quindi più protetta dal virus, oltre al fatto che la variante Omicron ha sintomi meno gravi. Ci sono poi non vaccinati che hanno una situazione clinica molto più grave. Non a caso quasi il 100% di pazienti positivi ricoverati nelle terapie intensive dell'asla di Teramo non è immunizzato.